Taglio del nastro a Giungano per il nuovo asilo nido realizzato nell'ambito delle attività del piano di zona ambito Salerno 7 con sede a Rocca d'Aspide. La struttura si trova in località San Giuseppe a Giungano nei pressi dell'area industriale in una zona strategica per il territorio a poca distanza dalle principali vie di collegamento con i centri più importanti del territorio. Una struttura di straordinaria importanza per le famiglie che lavorano e che da oggi potranno contare su una struttura nuova, moderna, che si candida a diventare punto di riferimento non solo per Giungano ma anche per i comuni vicini. I locali che ospitano l'asilo nido sono stati completamente sistemati a cura del comune retto da Giuseppe Orlotti e arredati con culle nuove e complementi di arredo funzionali alle esigenze dei bambini. Si ampliano così i servizi resi dal piano di zona ambito Salerno 7 che negli ultimi mesi nonostante le difficoltà legate alla pandemia ha continuato ad offrire servizi ai cittadini e che ha inaugurato anche altre strutture per l'infanzia nei vari comuni del territorio. All'inaugurazione erano presenti anche il sindaco di Rocca d'Aspide Gabriele Iuliano e il sindaco di Capaccio Pestum Franco Alfieri. Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino Giuseppe Orlotti e dalla responsabile dell'ufficio di piano Fulvia Galardo nel poter offrire alle famiglie del territorio un'opportunità di crescita e socializzazione per i bambini favorendo anche l'affermazione della donna nel lavoro e nel sociale.